Anassa dalla scorsa settimana ha avviato i lavori al tunnel della Guinza, probabilmente propedeutici alla costruzione della rotonda all'uscita del tunnel. A lanciare l'allarme è stato il gruppo, nato su Facebook ma molto attivo al di fuori della rete, dal nome Valle del Lama, che, come si legge nelle pagine social, sono preoccupati per il proprio territorio, legato soprattutto al passaggio dell'AE78. Il gruppo, in un testo, parla anche di un taglio del bosco sottostante la provinciale, oltre che lo scavo della zona antistante alla galleria, evidenziando come, secondo loro, i lavori consisteranno innanzitutto nella predisposizione di un muro di contenimento, quindi in seguito della costruzione della intersezione. Il gruppo di cittadini ha messo sotto la letta di ingrandimento anche la rotonda, come se vince dal progetto che avrà caratteristiche spropositate rispetto alla strada su cui farà confluire il traffico, mentre ricordano che la SP200, su cui confluirà il traffico della galleria, utilizzata in un solo senso di marcia, vale a dire dalle Marche all'Umbria, è una strada provinciale montana, con carreggiata di ampezza media e inferiore a 3,5 m, un manto stradale fortemente sconnesso e numerose frane, oltre che la limitazione della percorrenza per il peso dei veicoli e la velocità massima che in alcuni tratti è di 20 km orari. L'intervento, per quanto riguarda la galleria, è del valore complessivo di circa 130 milioni di euro e consentirà in particolare di rendere percorribile dalle Marche all'Umbria un tratto stradale di circa una decina di chilometri, collegandolo alla viabilità esistente.